Il peggiore dei falsi miti è la mancanza di una visione complessiva, e cioè la rotta balcanica è un segmento di un fenomeno molto più ampio di persone che partono da paesi come l'Afghanistan, il Pakistan, paesi in grandissima difficoltà, che passano sia attraverso tutta una serie di paesi dell'Unione Europea e non, e che poi alcuni, non tutti, decidono di proseguire. Quindi per comprendere la rotta balcanica è necessario capire sia quello che succede a Monte sia quello che succede a Valle. Riccardo Clerici è il responsabile delle attività istituzionali dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Dal suo intervento si può partire per analizzare da un altro punto di vista le questioni collegate alla rotta balcanica, cercando di sfatare i falsi miti secondo il titolo di un incontro svoltosi oggi nell'auditorium bonifacio del seminario, promosso nell'ambito di Pordenone Legge, cui fra gli altri hanno partecipato l'Arcivescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepagli e il prefetto Annunziato Vardè. L'iniziativa, vada sé, non ha potuto né voluto prescindere dalla consuetà istantanea sulla situazione presente. In questo momento lamentiamo un po' una sovrappopolazione perché c'è un grande rallentamento nella ridistribuzione sul territorio italiano delle persone che arrivano. Come abbiamo già detto tante volte, il sistema di accoglienza a Trieste regge se vi è una ridistribuzione sul territorio delle persone in arrivo e quindi si liberano posti che, ben sappiamo, molte volte si riempiono molto velocemente. Donna Modeo però sottolinea un dato, sempre a proposito di falsi miti. Si incomincia a realizzare che la popolazione di migranti a Trieste è formata anche da gruppi familiari, cosa che stupisce qualcuno. Stupiscono le famiglie bambini ma ci hanno sempre stupito, non soltanto adesso. Adesso forse la gente comincia ad accorgersi che esistono anche famiglie bambini, non ci sono soltanto ragazzi giovani. L'incontro, fra gli altri temi, ha trattato quello dell'inserimento dei migranti nel tessuto lavorativo, partendo dalla testimonianza della Roncadine, azienda leader nella produzione di pizza surgelata. Però in realtà sempre di più abbiamo necessità, con persone che appunto vanno in pensionamento, comunque escono dall'azienda, è sempre più difficile nel nostro territorio trovare persone che fanno quel tipo di attività, quel tipo di turni che abbiamo nella nostra azienda. Quindi abbiamo iniziato a collaborare appunto con la comunità Sant'Egidio e anche altre comunità per inserire e quindi cercare di formare le persone, di insegnargli anche la lingua italiana, è importante proprio per ambientarsi all'interno della comunità nostra. Grazie a tutti.